Si è anche riaperto il campionato. Ci racconta un po' il segretario che era contento? Era contento, si vedeva palesemente che era contento, come ovvio che sia, ha vinto la Fiorentina e quindi bene così, bella partita. Il clima è quello giusto, nel senso anche il clima dal punto di vista del contesto di grande sportività credo. Firenze offre sempre un contesto fantastico come questo, l'accoglienza Giancarlo Antonioni parla da sola, parla da grande città come è Firenze, come sono i tifosi della Fiorentina, bellissima esperienza, era accanto a Giancarlo che era visibilmente commosso per l'affetto Trimutatoli e bene così, insomma, dai, bella partita. Stasera si saranno morsi la lingua per Calilic. Va bene, dai, vediamo ora. Non è un consiglio, se restare o... No, no, io non do consigli, guardate, cerco di fare bene il mio mestiere e ci provo, per il resto sanno benissimo come fare i calciatori. Arrivederci a tutti, buonasera. Dobbiamo stare in occasione di Milan domani. Arrivederci, arrivederci a tutti.